Ci sono venuti a trovare in relazione Mattias e Lopilato con due amici. Mattias, loro sono gli amici che insieme a te ti hanno aiutato a creare, avete creato insieme, questa pagina seguitissima sul Centro Storico di Agrigento. Di cosa si occupa? Il Centro Storico di Agrigento si occupa di informazioni turistiche, naturalmente con l'aiuto di Stefano Mangione, Sandro Capizzi e Libettino Gabriele Borgio, che non è al momento presente. La nostra pagina è un'idea che nasce nel 2014, esattamente il 29 luglio del 2014, quando alcuni turisti che arrivavano alla Via Atenea, non era tanto arrivare alla Via Atenea o sul Colle di Giorgenti, il problema era quando salì per la Via Atenea poi c'è il caos totale, non sapere come arrivare sul Colle, quindi non era tanto la salita che era per arrivare al Colle, ma era come arrivare al Colle, quindi questa opinione di domanda che si pongono i turisti. Da là c'è venuto... Cioè, tu parli di arrivare alla cattedrale? Arrivare alla cattedrale, Santa Maria dei Greci, quello che c'è da visitare nel Centro Storico. Chi gestisce la pagina? Allora, la pagina è gestita da noi, da noi quattro ragazzi. Ognuno ha un suo ruolo. Lui ad esempio gestisce le informazioni, risponde ai turisti, lui crea il blog e incomincia a rispondere anche sulla pagina. E tu cosa fai? Io mi occupo di statistiche, aggiornare, creare applicazioni, aggiornare i siti e così via. Ricorda il nome della pagina? Il Centro Storico di Agrigento, ci possono seguire anche sul centrosoricodiagrigentoag.gimido.com Ripetilo perché se no così... Quindi www.ilcentrosoricodiagrigentoag.gimido.com Io, ragazzi, vi faccio i miei complimenti perché so che la pagina è molto seguita, è molto importante riuscire a dare questo servizio e avete iniziative in futuro che riguardano i templi? Sinceramente qualche iniziativa c'è, però al momento non abbiamo alcune certezze per divulgare. Poi ci sarà la pagina che ci penserà. Grazie a tutti i nostri spettatoriagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiagrientiag